allora eccoci qui a parlare di sinergie perché parliamo di sinergie e perché lo facciamo insieme ad alessandro innanzitutto uno spunto che è partito da tantissimi di voi perché io come raccontavo prima ad alessandro man mano ho chiesto su che tematiche facciamo le nostre dirette e le più richieste sono state consociazioni orto sinergico e compostaggio compostaggio te lo risparmio alessandro perché lo facciamo da due settimane però su questa cosa dell'orto sinergico e delle consociazioni è qualcosa secondo me di molto molto interessante in giro l'informazione non è perfetta credo su queste tematiche tante volte a me non piace per niente lo schemino della consociazione cioè quelle tabelle a matrice dove tu vedi gli ortaggi che possono stare con questo gli ortaggi che non possono buono cattivo fine in realtà in agricoltura non è così allora e magari anche sull'orto sinergico sì ci sono un po di schemi no il bancale la faccia matura eccolo lì l'orto sinergico allora mi sono cercato qualcuno che divulga su queste tematiche in maniera secondo me molto profonda alessandro ha sul suo canale youtube non so quante ore ormai ci sono di ai prodotto alessandro comunque tantissimo materiale tra l'altro adesso vi segnalo che c'è una playlist sulle agricolture evolutive poi vi mette poi link così ve l'andate a vedere dove c'è anche un discorso organizzato diciamo quindi lo trovate come se fosse un corso un percorso e quindi ho pensato ecco che alessandro è la persona giusta per dirci qualcosa su queste tematiche qua quindi non ho voluto scrivere orto sinergico ma sinergia per sottolineare tutte queste relazioni che ci sono che avvengono mentre noi continuiamo adesso parlato fin troppo io e lascio ad alessandro il compito di presentarsi un po meglio e di dirci qualcosa Matteo intanto ti ringrazio di cuore per questa iniziativa per tutto il lavoro che fai al di fuori di questa iniziativa e per avermi voluto qui oggi in questa iniziativa ringrazio anche tutte le persone che sono connesse e che ci stanno seguendo e tra queste so che ci sono anche parecchie delle persone con cui appunto è avvenuto e sta avvenendo l'evento che è citato poco fa per cui ci tengo a dire che è anche grazie a loro che si è creato poi quel gruppo che sta dando luogo a quell'evento che è a disposizione gratuita per tutti di me posso dire che sono nato in città circa ormai 30 anni fa e per praticamente i primi due terzi sono vissuto in simbiosi con i muri, con i mattoni, con l'intonaco e con l'asfalto e non mi interessava l'agricoltura e la terra e la natura in senso più ampio finché un bel giorno in un qualche modo sono entrati in sinergia diversi fattori e uno di questi è sicuramente il libro di Masanabo Fukuoka che come una freccia ha fatto breccia nella mia vita incominciando la lettura di Fukuoka ho incominciato a rendermi conto che in un'altra epoca in un altro punto del mondo c'era qualcuno che diceva e pensava le stesse cose che mi rendevo conto di pensare anch'io e da qui ho incominciato a fare ricerca su internet da qui ho incominciato a scoprire quelle realtà correlate a Fukuoka e all'agricoltura naturale di conseguenza la permacultura, di conseguenza l'agricoltura sinergica ma anche l'agricoltura sintropica di Ernest Gauche eccetera 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 un po' tutte quelle forme di diciamo di agricolture innovative di agricolture evolutive che si stanno ripresentando negli ultimi decenni e grazie a questo progressivo avvicinamento sono arrivato a mettere le mani nella terra e a riscoprire una passione che oggi per me è diventata irrinunciabile mi sento grato di poter sperimentare questo privilegio di essere in sinergia con la terra oggi sicuramente in questo percorso sento di aver cambiato un po' il punto di vista progressivamente di aver cambiato anche me stesso, il mio modo di approcciare la terra e tutto questo in un qualche modo si può ritrovare raddensato in quell'evento che avevi citato prima e sicuramente è anche in base a queste cose che ho vissuto, queste esperienze che ho potuto fare in questi anni che parlo qui oggi per cui tu poco fa dicevi che lo schemino delle consociazioni così rigide o lo schema dell'ortosinergico in modo così diciamo classico non ti piace più di tanto io mi permetto di chiederti perché non ti piace più di tanto per essere sicuro di capire che cosa intendi allora non mi piace più di tanto perché non ci invita a pensare, a capire che cosa c'è dietro cioè non mi piace la rigidità di dire io prendo questo e sono a posto quindi non so se metto vicino cipolla e carota perché lo faccio perché lo schemino me lo dice ecco se il nostro approccio è perché a me mi arrivano tantissime domande ma la fai questa tabella, ma mi dai questa tabella ok però perché li metto insieme? perché una pianta ha un'essenza che magari è sgradita all'insetto dell'altra oppure in altri casi perché la forma delle due piante cresce armoniosamente perché magari una fa un po' di ombra all'altra ecco tutto questo è interessantissimo ma lo schemino ci fa da barriera diciamo no? da pappa pronta che poi ci fa perdere quel ragionamento che poi ci permette anche magari di capire e di trovare delle altre consociazioni che non c'erano lì perché magari non lo so semino una batata americana che nello schemino non c'è allora cosa faccio? non so dove metterla invece se ci ho ragionato un po' magari mi viene niente e trovo è una questione di approccio poi è un po' una provocazione dopo è comodo gli schemi infatti mi sento pienamente in accordo con quello che tu stai dicendo e non posso fare meno appunto di rendermi conto che è veramente una questione di approccio nel senso che lo stesso schema che magari qualcuno fa con tanto impegno io stesso mi trovo a fare degli schemi per cercare di condividere quello che oggi sento essere un mio punto di consapevolezza dipende poi come viene interpretato da chi sta dall'altra parte cioè chi riceve lo schema come lo interpreta per questo io ci tengo a spezzare comunque una lancia a favore di tutti gli schemi che ho incontrato che possiamo aver incontrato per dire fin da subito che sono sicuro che tutti coloro che hanno generato degli schemi sono sicuro che avevano e hanno una buona intenzione di partenza e l'incomprensione spesso la malinterpretazione forse è veramente una responsabilità di ognuno di noi per cui in chiave diciamo di questo discorso mi sento di invitare tutti noi qui presenti a incominciare fin da subito a responsabilizzarci sul diventare partecipatori attivi partecipanti attivi sperimentatori che attraverso le proprie esperienze i propri tentativi a costo di sbagliare possano trovare una strada che è il risultato di un'esperienza perché forse è questo che a volte diventa un ostacolo prendere uno schema come un riferimento valido in senso assoluto che ti dia una sicurezza che ti fa delegare il fatto di fare un'esperienza ma fare un'esperienza è una cosa che in un qualche modo ci tocca se ci vogliamo ricollegare alla terra quando si parla di sinergie secondo me è importante ricordare il fatto che a livello etimologico significa cooperazione e cooperazione vuol dire guardare l'altro rendersi conto che c'è altro attorno a noi per poter entrarci in connessione allora se sinergia è un codice linguistico e come codice linguistico in qualche modo è una porta che si apre verso un mondo allora il mondo attraverso il verso cui si può andare attraverso questa parola sinergia è duplice è un avvicinamento verso la natura che è fuori di noi ma un avvicinamento verso la natura che è quella nostra interiore a volte tutto questo può spaventare perché richiede impegno e personalmente i primi anni io stesso mi sono sentito un po' spaventato e ho cercato di appoggiarmi appunto a questi schemi e con l'esperienza con l'insegnamento che la terra mi ha potuto dare giorno dopo giorno sono ben presto arrivato a capire che se io non mi ci butto a costo di sbagliare se io non incomincio a collegarmi all'istinto più intimo se io non incomincio a ricercare una connessione con quella terra le sole tabelle non servono non bastano tabelle che appunto poi tante volte sono anche in contraddizione tra di loro e quindi anche qualora uno volesse provare a seguire questa tabelle non è così semplice perché o ne segui una o se incomincio a guardarti un po' attorno diventa complesso il far quadrare il cerchio ti ringrazio perché hai dato una bellissima panoramica di approccio cioè hai centrato anche un po' la mia provocazione sulle tabelle sono proprio pienamente d'accordo con te allora parlando di sinergie proviamo a elencare anche nei commenti perché a livello della diretta insomma in questi peloracci dove non ci si può vedere è anche l'interazione che è limitata e filtrata dal mezzo però quindi anche nei commenti proviamo a elencare un po' quali sono le entità che ci sono in gioco in un orto che uno magari in un orto, in un campo nella nostra zona coltivata insomma in un'agroforesta ecco per citare il titolo del tuo bellissimo evento perché uno è diciamo è importante secondo me rendersi conto di questa moltitudine che poi chiamiamo biodiversità che poi che c'è in gioco senza pensare a un approccio magari dell'agricoltura più convenzionale dove si si cerca di limitare invece e di avere una sola cultura nessun insetto nessuna erba spontanea eccetera eccetera quindi la domanda che lancio è chi è chi è che c'è in campo che agisce che opera bellissima domanda che che mi verrebbe da da seguire con un'altra domanda che è ma chi è che non c'è in campo a a a determinare qualcosa nel nel flusso delle connessioni della vita effettivamente quando ero in quella fase diciamo di simbiosi cittadina ero io avevo la percezione di me stesso poi c'era il cibo che mi arrivava e c'era l'idea l'illusione che fosse una cosa sconnessa quando ho incominciato a capire che il cibo che io mangio poi diventa io è stato il momento in cui ho cominciato a capire che quel cibo in realtà è un'espressione della terra e a sua volta la terra è un'espressione dell'ecosistema che a sua volta è l'espressione del popolo che lo abita per cui sicuramente è importante rendersi conto che siamo in un circuito in cui tutto è connesso in cui le scelte di tutti i giorni si ripercuotono sull'ambiente si ripercuotono sul suolo si ripercuotono sull'acqua si ripercuotono sulla vita che è nel sole nell'acqua e quindi sulle piante e quindi su di noi anche sulla nostra salute ma anche sul nostro stato psichico emotivo in tutto questo c'è un aspetto che che è altrettanto importante che a volte viene un po' dimenticato o trascurato che è l'aspetto dei semi cioè fare agricoltura molte volte vuol dire andare ad acquistare piantine e limitarsi tra virgolette a trapiantarle o andare ad acquistare i semi e seminarli e spesso viene a mancare il passaggio del recuperare il seme dalla pianta che tu coltivi passaggio che nella nostra tradizione contadina era la base di tutto perché in antichità non c'erano tutte le possibilità che abbiamo oggi non era così semplice per cui nella volontà di ricollegarsi di cooperare con l'ambiente nel macro e nel micro di collaborare e cooperare con le altre persone secondo me come elemento fondamentale c'è il fatto di ricollegarsi a quella tradizione contadina che è la salvaguardia della biodiversità la custodia dei semi le sinergie biologiche proprio due piante che possono entrare in uno scambio di sostanze chimiche che possono entrare in relazione con la microbiologia del suolo in un mutuo aiuto è un qualche cosa che di per sé è alla base della sopravvivenza su questo pianeta basta guardare uno scorcio di un ecosistema naturale per vedere la manifestazione concreta di come le sinergie avvengono a ogni istante ricreare quelle sinergie in orto però non sempre è semplice perché spesso è l'essere umano che fa interferenza con quel sottile equilibrio che permette quelle sinergie allora non basta comprare le piantine e piantarle insieme trascurando lo stato del suolo bisogna anche rendersi conto no bisogna è una possibilità rendersi conto anche di in che stato è il suolo per cui se è un suolo depauperato se è un suolo degradato cercare di ripristinarlo di riportarlo a quello stato vivo a quello stato organico e al tempo stesso se io ho delle piantine che magari compro che tra virgolette sono viziate dal modo in cui vengono prodotte è altrettanto importante riuscire nel tempo negli anni a recuperare i segni per ottenere delle varietà rustiche che spesso non si riescono a trovare in commercio per cui ancora una volta ritorna il fatto di responsabilizzarsi diventare attivi per promuovere quell'equilibrio che è alla base poi delle sinergie e quindi dell'evoluzione allora qua intanto ti leggo qualche commento Alessandro è un filosofo un filosofo forti coltore tutto attaccato un neologismo tutto per te che ti descrive bene allora una domanda bei discorsi pensate che le sinergie siano riservate solo a pochi questo certamente non sono per tutti le sinergie nel senso le sinergie sono per coloro che si permettono di viverle sono per coloro che sono pronti a responsabilizzarsi poi che siano pochi o che siano molti questo dipende dalle persone vi posso dire che più passa il tempo più mi rendo conto che non siamo pochi e più me ne rendo conto più questa cosa mi rincuora però è una cosa alla portata di tutti è una cosa innata è una consapevolezza che è parte della nostra memoria genetica contadina che portiamo dentro è la base della nostra tradizione quindi è per tutti anche perché mi permetto di aggiungere le sinergie funzionano se sono tra tanti elementi cioè l'ecosistema ha una sua stabilità che è dovuta alla quantità anche di interazioni che si creano quindi dobbiamo pensare a delle sinergie per tanti dobbiamo auspicare una partecipazione su questo nel nostro orto favorendo la biodiversità e nel nostro mondo favorendo insomma la biodiversità di pensiero e di partecipazione penso allora vediamo un po' che c'è anche qualche sta iniziando ad arrivare anche qualche testimonianza concreta di esperienza qua ho lasciato le viole nel mezzo delle fragole perché ho visto che le lumache iniziano da loro prima di arrivare alle fragole ecco qua prendiamo un orto questo è un esempio lampante di una sinergia concreta efficace è altrettanto vero che magari se io volessi prendere spunto da quest'idea e riprovare l'esperimento nel mio orto non è garantito lo stesso risultato dipende dai gusti delle mie lumache dipende dall'appetibilità di quelle viole faccio un piccolo esempio di di un'esperienza che mi ha fatto capire in modo lampante che non avevo più bisogno di rifarmi alle tabelle consociative in modo così come se fosse la verità assoluta ho consociato lo stesso girasole la stessa varietà di girasole il white tarahumara sunflower è una varietà che deriva da una tribù di nativi americani con due tipi di fagioli diversi con il fagiolo dall'occhio e il fagiolo borlotto due fagioli nani due tipologi di fagiolo nano in due aree separate ho potuto vedere come lo stesso girasole con questi due fagioli ha avuto due reazioni diverse cioè il borlotto vicino al girasole da nano riceveva in qualche modo un impulso che diventava arrampicante e quindi si creava una sinergia effettiva perché il girasole diventava anche un supporto fisico per far trionfare questo fagiolo in tutta la sua magnificenza dall'altro lato il fagiolo dall'occhio che già era nano vicino al girasole diventava completamente atrofizzato per cui non cresceva in quel caso si era generato quel fenomeno che viene chiamato allelopatia quando una pianta inibisce un'altra allora guardando quell'esperimento lì io già se dovessi scrivere nella tabella fagiolo e girasole vanno d'accordo oppure no avrei due informazioni diverse che sarebbero vere tutte e due se tu avessi provato il fagiolo dall'occhio e io avessi provato quello borlotto nelle due nostre tabelle avremmo inserito due informazioni opposte ma entrambe vere questo secondo me è un elemento importante da comprendere cioè sul fatto che spesso le consociazioni si basano su degli equilibri sottili che sono connessi alla raffinatezza della descrizione dell'esperimento che varietà stai utilizzando com'è andato il corso dell'anno in che territorio sei e da qui in avanti insomma questo per per dire che le consociazioni sono prima di tutto secondo me una materia di ricerca uno stimolo per per vedere cosa succede se si fanno determinate cose sarebbe bello vivere le tabelle consociative come un quaderno personale in cui appuntare le proprie esperienze hai risposto a Chiara che hai chiesto proprio perché si trovano diverse interpretazioni delle consociazioni a volte anche contraddittorie tra di loro ecco puntual arrivata in anticipo la risposta mentre Chiara digitava e dirato fuori allora Franco scrive per me le sinergie è sfruttare le forze presenti in natura per creare un equilibrio allora vediamo un po' posso agganciarmi ma è certo devi agganciarti ad esempio quando io cerco attivamente in un qualche modo di manovrare le forze di natura tra virgolette di guidarle di sfruttarle appunto per quanto il senso della parola sfruttare possa essere il migliore in questo caso mi rendo conto che in qualche modo finisco per interferire il ruolo dell'aspettativa nella mia esperienza ho visto che ha un peso specifico allora io potrei anche fare diciamo le consociazioni tutte bene fatte nel migliore dei modi potrei anche applicare tutte le tecniche di preparazione del suolo al meglio ma anche soltanto se poi incomincio ad avere un'aspettativa sul raccolto nel mio caso tante volte vedo che interferisco e che invece se non non ci penso più paradossalmente al raccolto ma mi metto a servizio io assieme alle altre forti della natura non per manovrarle ma per essere manovrato da esse allora tutto cambia diventa anche più piacevole come esperienza ma è la cosa più difficile è una cosa difficilissima ma più che difficile è una cosa impegnativa che richiede impegno quotidiano ed è subdola perché è invisibile perché di solito non se ne parla di solito si parla delle tabelle ma non di questo dettaglio per cui mi sono permesso di accennarlo affinché non non si possa pensare che non condivido che è una cosa difficilissima perché uno quando si approccia poi insomma è lì come dici tu benissimo con un'aspettativa e penso che la coltivazione ci un pochino ci aiuta proprio a imparare questa pazienza questo metterci al servizio che tu citi in una scuola perché noi per mentalità non so se è l'uomo moderno c'è l'uomo in generale che c'è là dentro però abbiamo questa fretta questa questo desiderio di risultato io tramite il sito mi arrivano tantissime domande e mi accorgo che uno degli errori più frequenti che si commettono è l'eccesso di intervento quindi tanta concimazione tanta tanta applicazione cioè perché noi siamo lì a dire ma come non cresci non cresci se meno le carote che sappiamo che sono lente ma dove sei ma dove sei allora butto giù butto giù cercando disperatamente un intervento quindi e io stesso sono fatto così per cui mi ritrovo e faccio tesoro di queste parole di Alessandro a volte basta dimenticarsele a volte le carote basta dimenticarsele quanto basta per non appesantirle dell'aspettativa per lasciarle crescere e poi andare a ritrovare e dire cavolo ma guarda sono cresciute più di quello che tra i due combattenti vince colui che cede io penso che è la natura che deve guidarci non il contrario sai che sono come a volte forse è anche questo il successo dell'orto sinergico del primo anno cioè l'orto sinergico è un portale straordinario per avvicinarsi alla natura soprattutto per le persone che come me vengono dalla città diciamo vengono da una condizione di radici fuori terra da una sconnessione e tante volte quando ci si avvicina all'orto sinergico non c'è aspettativa c'è soltanto la voglia di vedere cosa succede e c'è di solito un grande successo in questo ma questo va oltre all'orto sinergico la prima esperienza di orto spesso è un grande successo ed è in quel lasso di tempo che poi si attiva qualcosa nella testa che dal secondo anno fa incominciare a cambiare le cose e lì però è anche molto interessante capire con l'esperienza il punto di equilibrio tra il fare e il non fare tra il troppo l'eccesso di intervento ma anche il troppo poco perché a volte comunque il non fare questo non fare dell'agricoltura di fuoco sfocia in abbandono e quando questo succede per forza le carote non crescono per cui il punto di equilibrio è un'altra di quelle cose secondo me fondamentali da perseguire e anche su questo penso non ci siano schemi ma dipende anche dall'indole del coltivatore che magari il tuo punto di equilibrio non è il mio quello di fuoco non è non è il nostro probabilmente allora su questo se io mi affascino alla visione di fuoco e mi ritrovo nelle sue parole nel suo modo di coltivare quanto è importante a un certo punto dare spazio a quello che rispecchia me conservando l'amore per l'insegnamento di fuoco lo stesso può valere per te può valere per chiunque cioè dall'insegnamento di un personaggio storico che lascia un segno quanto è importante per onorarlo anche di staccarci a un certo punto di staccarci nel senso di capire qual è veramente la tua essenza volendoci bene reciprocamente se tu hai un punto di equilibrio che è diverso dal mio questo non ci deve mettere in in conflitto anzi questo può essere un grande stimolo per poter vedere nell'altro qualche cosa che magari non si ha dentro e sottolino questo aspetto perché tante volte soprattutto così nel mondo dell'agricoltura naturale in senso ampio succede che ci si che ci si affeziona così tanto a un insegnamento da irrigidirsi appunto e a quel punto discostarsi dall'insegnamento sembra un peccato un peccato in senso dogmatico invece credo che sia la cosa più bella poter arrivare al punto di differenziazione altrimenti non si sta facendo altro che un'altra monocoltura invece la biodiversità vuol dire proprio questo che ognuno di noi con l'agricoltura esprime la propria individualità che è unica e irripetibile bellissimo qua stanno arrivando tantissimi commenti che sarebbero da leggere tutti e vi invito a farlo l'orto è un insegnante di vita bisogna saper aspettare alla fine arrivano i risultati da una grande soddisfazione osservare senza interferire senza aspettative ricorda un po' il concetto Tao del Wu Wei fare senza fare la logica del buon fare sì e qua invece una richiesta più pratica quali sono in generale linee guida per avere delle buone consociazioni oh andiamo un po' nel pratico altrimenti rimaniamo solo nell'atmosfera andiamo nella terra secondo me a oggi i parametri sono pochi e semplici cioè che cosa ti offre la stagione adesso stiamo andando verso la primavera escludiamo tutte quelle cose che non possiamo più seminare che non possiamo più mettere la dimora incominciamo a guardare che cosa possiamo seminare gli ortaggi di stagione sono una grande indicazione cioè difficilmente ci possiamo mettere a a a trascendere da questo cioè noi viviamo un'agricoltura a livello industrializzato che ormai trascende dalla stagionalità nei supermercati abbiamo tutto tutto l'anno ma in orto è diverso allora fare fare fede fare riferimento all'andamento stagionale fare riferimento allo sviluppo della pianta per cui se ho due piante che si sviluppano tanto cercare di avvicinarle tra di loro ancora una volta rispettando il punto di equilibrio permettendo a entrambe di poter svilupparsi in modo dignitoso senza che una sovrasti l'altra e lo stesso vale per tutte le tipologie di piante grandi o piccole che siano per cui studiare gli incastri ad esempio in questi giorni sto sto mettendo a dimora in serra in serra fredda i primi fagiolini e i primi citrioli so che potrebbero arrivare delle delle gelate però io incomincio semina diretta nel terreno i fagiolini e i citrioli io li metto abbastanza distanziati tra di loro affinché possano esprimersi avendo il loro giusto volume con l'idea di farle arrampicare per cui con l'idea di fargli valorizzare il livello più alto dello spazio e nella parte inferiore in tutto il suolo nudo tra il cetriolo e il fagiolino io vado a guarnire il tutto con delle semine di riempimento in questo caso ho utilizzato un'alternanza di ravanelli e valerianella per fare diciamo un tappeto vivente basso che mi possa permettere di avere un raccolto nel giro di poco tempo sapendo che una volta che le piante alte vanno verso l'alto sotto i ravanelli e la valerianella mi rimangono al loro posto diciamo non c'è un'interferenza tra questi due a loro volta una volta che il loro ciclo essendo piante a ciclo molto breve sarà finito una volta aver raccolto lo strato inferiore il suolo sarà di nuovo libero e potrò riempirlo di nuovo con altri trapianti o altre semine facendo però riferimento al fatto che nel frattempo fagioli e cetrioli sono cresciuti per cui tutto lo spazio che mi prendono le piante in crescita io glielo lascio e vado a valorizzare a guarnire solo gli spazi vuoti sempre guardando che cosa offrirà la stagione probabilmente dopo aver raccolto ravanelli e valerianella andrò magari a metterci giù qualche fiore qualche pomodoro con l'idea di farlo crescere spoglioso in basso magari qualche patata tutto ciò che potrà essere il pattern estivo che nella serie di video che hai citato prima spesso io mi ritrovo a chiamare il pattern numero 3 in quella che è la successione delle culture e in tutto questo secondo me un altro aspetto fondamentale per poter studiare le consociazioni è anche la necessità di irrigazione in funzione al ciclo di coltivazione per questo seminare ortaggi nello stesso momento che più o meno andrai a raccogliere nello stesso momento e che dunque libereranno il terreno nello stesso momento secondo me è una cosa molto tattica da qui il concetto dei tre pattern stagionali per poter incominciare a entrare nella logica della rotazione e delle consociazioni però aggiungo anche questa piccola cosa che noi spesso pensiamo alle consociazioni come per forza l'abbinamento di due piante proprio vicine vicine nello stesso nella stessa aiuola a strettissimo contatto ma non non perdiamo di vista comunque l'importanza della biodiversità che c'è anche nell'orto di ogni anziano che lo fa in modo tradizionale perché anche nei 50 metri di orto dell'ortolano medio in cui ha i pomodori nella prima aiuola il basilico nella seconda le cipolle nella terza se te la guardi un po' da lontano c'è comunque consociazione c'è comunque biodiversità che è sicuramente molta di più del 10 ettari di soia per dire o 10 ettari di pomodori per cui noi in realtà facciamo parte di un popolo che è il popolo italico che ha geneticamente proprio questa attitudine alla biodiversità perché siamo un popolo ortolano ed è così tanto scontato per noi vedere di diversità negli orti che a volte si finisce per non vederla più si finisce per pensare che quella sia una monocultura niente di più sbagliato secondo me anzi sinergia è un codice linguistico per me indispensabile per imparare a vedere quanto già tutto questo faccia parte di noi e della nostra tradizione non c'è niente di nuovo si tratta soltanto di andare a riscoprire qualcosa che sono come gli occhiali che uno ha in testa e pensa di averli persi mi è caduto l'occhio sulla domanda se io uso la paglia come faccia matura l'ho usata nei primi tre anni con risultati poco soddisfacenti rispetto a quello che io speravo perché avevo un'aspettativa ho ben presto sostituito la paglia con il cippato di legna o in generale con delle sostanze che derivano da alberi per cui che ci sia legno comunque per due motivi molto semplici uno perché la pacciamatura organica è un mezzo per poter ricreare humus nel suolo e la quantità di humus che si crea dalla pacciamatura è direttamente proporzionale al tipo di materiale che tu utilizzi la paglia in poche parole non produce abbastanza humus per il livello di rigenerazione che mi serve io ho una terra pesante argillosa collosa che ha bisogno di tanto humus per poter migliorare a parità di volume a parità di tempo la pacciamatura legnosa a base di cippato o segatura o trucciolo mi dà molte più soddisfazioni utilizzando la pacciamatura legnosa ho anche risolto molto bene il problema delle lumache non posso garantire che sia solo il cambio di pacciamatura ad averlo determinato però l'ho notata questa cosa mentre pattinano che è una meraviglia sulla paglia umida sul cippato fanno più fatica infatti ho incominciato a mangiare lattuga da quando ho smesso di usare pacciamatura di paglia ma c'è anche un altro aspetto il fatto che se vogliamo allargare lo sguardo a un'agricoltura ecosistemica che cos'è la paglia la paglia è il prodotto della parteria la parteria a livello ecosistemico non è il modello più evoluto di ordine naturale esiste il bosco la foresta che è il livello superiore che è il climax di quello che noi oggi possiamo conoscere come ordine naturale allora se il bosco e la foresta sono il punto di riferimento l'albero che è l'espressione vegetale massima è ciò che ci insegna che l'humus nel bosco che è la terra migliore che si possa trovare deriva dal legno fukuoka secondo me è stato molto importante ha lasciato un segno ha insegnato molto anche grazie al consiglio della paglia ma lui la paglia la produceva perché lui coltivava cereali allora secondo me la paglia è interessante se si sta facendo cerealicoltura è una cosa che tu produci e tu utilizzi è molto interessante se uno parte da zero e non sa che risorse trovare ma se si vuole incominciare a produrre a realizzare un progetto agroforestale allora inserire alberi appositamente destinati a produrre cippato secondo me è una possibilità molto interessante perché alla fine quello che fukuoka voleva indicare per la mia interpretazione soggettiva era semplicemente l'importanza di ridare materia organica al suolo una cosa che spesso nell'agricoltura industrializzata non si vede per cui alla fin fine più si autoproduce più c'è armonia in tutto questo per il cippato va bene qualsiasi tipo di legna secondo me è importante fare il più possibile riferimento a legno a foglia cedua cioè di alberi a foglia cedua il più possibile evitare di abusare di legno di conifere legni troppo resinosi c'è anche da dire che nella mia sperimentazione ho anche usato pacciamatura legnosa resinosa per vedere cosa succedeva e l'ho fatto su un terreno calcareo fortemente alcalino controversie non ne ho viste di mio però per come dire per per sicurezza mi sento di consigliare di mescolare il legno di di conifere con legno di di albero latifoglia perché in questo modo c'è più sicurezza di non incorrere in un eccesso di resine quindi in un'acidificazione del suolo però se uno non vuole star tanto lì a soppesare più riesci a biodiversificare le fonti meglio è però chiedono anche se va bene la segatura lo accennavi già la segatura la segatura va bene la granulometria della segatura a differenza del cippato è più fine quindi può creare un po' più di asfissia allora in quel caso secondo me è interessante usarne un po' di meno diminuire un po' il volume o magari mescolarla con qualche altro materiale con una tessitura più diciamo a maglie più larghe per evitare questa asfissia qua sulla pacciamatura stanno arrivando se vuoi te ne butto lì qualcuna così facciamo una vai vai una mini guida allora vabbè come si produce il cippato qualcuno già scrive ritando le potature sì fondamentalmente sì le foglie di quercia sono adatte ci passo prima il tagli-erba mulching il punto è questo la natura è progettata da se stessa per poter digerire e trasformare in humus tutta la sostanza organica che muore quindi quando un pino cade a terra quel pino nel tempo verrà degradato dai funghi dai microrganismi e lo stesso vale per le foglie di quercia per cui tante volte ci si fanno problemi che secondo me si potrebbero evitare io ho un paio di quercia i miei vicini hanno un paio di quercia io vado a volte a rastrellare le foglie di quercia dei vicini per portarle nell'orto ma le foglie di quercia se ascolti alcuni non si possono usare come pacciamatura perché vengono considerate foglie maledette secondo me invece sono un'ottima risorsa solo foglie di quercia mi annoia anche invece mescolando magari la foglie di quercia con la potatura del ligustro e dell'alloro che vi ho triturato qui in orto già cambia lo sfalcio dell'erba le erbe in questa stagione sono una benedizione perché più le lasciamo crescere nei camminamenti più adesso che arriva il caldo le possiamo sfalciare e aggiungere la pacciamatura quella è tutta sostanza organica che mantiene l'umidità del suolo la cosa importante se uno vuole diciamo darsi una mano è evitare di mandarli a seme riducendo la possibilità che si riseminino questo vale un po' per tutto anche per questo è importante arrivare ad autoprodursi la pacciamatura perché se te la fai tu sai cosa c'è dentro se la compri in giro non sai mai cosa ti ci finisce dentro ne ho sentite diverse di persone che hanno comprato il ballone di fieno o di paglia e si sono portati nell'orto la cuscuta che è una pianta parassita anche abbastanza importante insomma da tenere sott'occhio quindi come dire tutto tutto si può utilizzare più autoproduciamo secondo me più è divertente il più possibile però senza creare asfissia anche lì lo sfalcio del prato se usiamo il tagliaerba quando lo fa troppo fine che viene fuori una sorta di di lana estremamente quasi spugnosa ecco se facciamo uno strato di quell'erba lì molto molto fine il rischio è sempre quello di creare un tappo che se ne mettiamo troppa può anche crearsi una decomposizione tale per per cui si scotta il terreno non so se vi è mai capitato di mettere la mano dentro la mucchia dell'erba tagliata il giorno dopo due giorni dopo brucia ecco brucia perché c'è pochissimo ossigeno e si innesca una fermentazione termofilica ecco evitare questo secondo me è importante ma al di là di questo meglio abbondare meglio meglio mescolare come dice Ceccarelli ma lo dice per i semi ma vale un po' per tutto mescolate contadini mescolate allora ho capito che le consociazioni sono anche uno stato mentale e qua c'è una domanda su cui si potrebbero fare dirette su dirette potete consigliare delle letture oltre a fuoca e prima qualcuno diceva ma come mai parlate di fuoca e non parlate di 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 azeli puoi raccogliere qualche spunto allora io mi sento ho lanciato ho lanciato qualcosa mi sento di consigliare un libro che mi sa che è uscito da poco tra l'altro che si chiama l'ordine l'ordine nascosto di Sheldrake la vita segreta di funghi è una delizia di libro che parla attraverso i funghi di una serie di aspetti del mondo insomma del mondo scientifico fondamentalmente del rapporto tra tra uomo e natura insomma mi è piaciuto molto come libro altrettanto importante quanto fu fuoco una delle ultime letture che mi sono ritrovato a fare me lo segno anch'io questo può far paura perché è grossino ma si reagge velocissimamente parliamo anche di Emilia parliamo di Emilia mi viene sempre da parlare di Fukuoka perché per me è stato il primo grande amore ma anche Emilia è stato per me un grande amore nonostante non li abbai mai purtroppo conosciuti di persona ma la loro impronta mi è arrivata trovo che Fukuoka come Emilia come tutti gli altri personaggi che hanno lasciato un segno siano importantissimi siano indispensabili perché è grazie a loro in qualche modo che oggi siamo qui o almeno io sicuramente ma è altrettanto importante capire come il loro insegnamento è stato codificato con una parola Fukuoka ha codificato il suo insegnamento come agricoltura naturale Emilia l'ha codificata come agricoltura sinergica e il loro messaggio però tante volte viene dogmatizzato il loro ma quello di tutti poi il messaggio di chiunque spesso viene dogmatizzato si tiene la parola si tengono i consigli e non si diventa sperimentatori attivi credo che nessuno possa fare agricoltura naturale in realtà se non Fukuoka nessuno può fare agricoltura sinergica se non Emilia Azelip Fukuoka ed Emilia Azelip hanno fatto il loro percorso e hanno dato un nome alla loro ricerca per poterla raccontare ma difficilmente secondo me si può pensare di fare ciò che hanno fatto loro noi possiamo utilizzare queste parole per intenderci per comprendere ciò che stiamo dicendo però però è interessante questo aspetto cioè il fatto che la parola agricoltura comunque non bastava più non bastava più perché l'agricoltura è un qualche cosa che per secoli per millenni è stato un termine naturale ai tempi di Fukuoka già si era inquinato e Fukuoka ha dovuto ridargli quella naturalezza ridargli quella salubrità cambiando il termine aggiungendoci un aggettivo e lo stesso in qualche modo ha fatto Emilia quando ha voluto aggiungerci il suo e lo stesso si continua a fare per me però è importante ricordare che sono solo parole sono solo parole che veicolano l'insegnamento di una persona che ha avuto una comprensione ma di fatto si sta facendo sempre agricoltura perché la terra è sempre quella e l'umanità è sempre quella quando si mette un seme a terra alla fine quello è ciò che si sta facendo allora qualcuno dice che sono sfocato io dentro nell'applicazione mi vedo nitido però potrebbe essere che nel mandare il segnale a Facebook qualcosa se ne vada ma pazienza tanto l'importante è che sentiate bene Alessandro Marco nei commenti sta dando una serie di consigli di lettura molto interessanti su due su tre testimonio quindi prendete appunti anche dai commenti che ci sono delle belle cose allora un'altra cosa che che non posso non dire è il fatto che comunque quando noi prendiamo spunto da un qualunque punto di riferimento storico come può essere Emilia o Masanobu dobbiamo anche ricordarci che loro hanno trasmesso un segmento della loro esperienza già soltanto leggendo il primo libro e l'ultimo di Fukuoka si vede un'evoluzione si vede un mutamento allora a quale punto del suo insegnamento si vuole fare riferimento anche questo a volte crea controversie crea anche conflitti purtroppo per cui ricordiamoci sempre questo erano persone che facevano esperienza e che comunque sia l'hanno potuta fare per un periodo limitato che è stata la durata della loro vita non sappiamo oggi a cosa sarebbero arrivati il bello è che oggi ci siamo noi oggi l'agricoltura continua con con chi c'è e per questo è una nostra responsabilità di portare avanti la sperimentazione e aprire nuove strade o mettersi a disposizione per nuove strade che attendono di aprirsi attraverso di noi però facendo sempre quella stessa cosa che è l'agricoltura grazie intanto a Dieguito che ha messo il link all'ordine nascosto la vita segreta dei funghi citato da Alessandro e l'ha messo tra l'altro con Book Dealer che è un sito che ti permette di comprare dai librai invece che direttamente in e-commerce così si sostengono le librerie ottima idea io stesso l'ho comprato dal mio libraio di fiducia Claudio dice che assomigli sempre più a Masano Vufcoca Alessandro mi devo preoccupare allora abbiamo parlato di massimi sistemi consociazioni pacciamatura letture fateci qualche domanda scegliete voi o dateci qualche risposta qualcuna andandosi a vedere andandosi a vedere i commenti qualche bella risposta c'è oltre a una serie di applausi per Alessandro meritantissimi c'è chi dice starei ad ascoltarti tutta la notte attenzione che vi prendiamo in parola ce lo dicevamo prima Alessandro subito è partito carico prima di far partire la diretta ma di solito che ora finisce perché qua se si va in là ecco qui una domanda interessante ci sono piante che non in maiuscolo si associano mai nella vostra esperienza? piante che non si associano mai inteso come come dire fare attenzione a non associarle in senso assoluto no a parte nella mia esperienza il fagiolo dall'occhio con quel girasole lì a oggi non mi viene voglia di rimetterli assieme però perché non riprovarci perché non cercare tanti tipi diversi di fagioli dall'occhio e riprovarli con lo stesso girasole e vedere poi alla fine se c'è tra qualche varietà una compatibilità secondo me in realtà le possibilità di consociazione sono infinite sono da piante e piante alberi e alberi piante e alberi l'unico limite vero è la nostra fantasia e ciò che ci permettiamo ecco adesso è arrivata una domanda che che mi piace citare perché in una diretta pastata si è scatenata una una il gruppo si è diviso in due rosmarino e salvia meglio non metterli vicini io dissi nella mia personale esperienza una pianta di salvia e una pianta di rosmarino condivisero gloriosamente il vaso sul balcone quindi il vaso per cui non erano vicini erano appiccicate sono state benissimo eppure un po' come come i fagioli di Alessandro ricordo proprio due settimane fa si discuteva di questo e tantissimi scrivevano no non è vero la mia salvia è stata soffocata da rosmarino poi sono arrivate le foto nei commenti qualcuno ha mandato di due belle belle piante e quindi ritorniamo al discorso che facevi prima Alessandro questa è la natura cioè noi veniamo da una scolarizzazione che ci ha insegnato a ragionare in modo lineare ma la natura in tutti i modi ci sta cercando di far capire che quella roba lì non fa parte dell'esperienza della natura cioè sicuramente ci sono dei codici molto precisi che sono la matrice delle forme della natura dei funzionamenti delle leggi dell'universo ma poi quando tu metti vicino la salvia del rosmarino se vanno d'accordo o no lo decidono loro come se tu e io Matteo andiamo d'accordo cioè chi lo sa finché non ci non ci mettiamo a parlare io oggi scopro che mi sei simpatico ma prima di questo momento ma magari non abbiamo ancora parlato non so di calcio di pulizia dipende anche tutto può cambiare no io salvia salvia rosmarino secondo me come tutte le aromatiche possono andare bene assieme il punto è le sappiamo gestire per poterle far stare bene insieme perché in natura esiste comunque un processo evolutivo per cui la pianta che si esprime di più prende spazio e la pianta che si esprime di meno cede spazio in natura magari su un grande appettamento di terreno avresti delle macchie in cui domina il rosmarino e delle macchie in cui domina la salvia noi vogliamo fare tutto nello stesso posto e quindi imprimere il nostro volere se vogliamo fare una cosa del genere e farci stare la salvia in un punto in cui ci sarebbe rosmarino dobbiamo impegnarci anche noi a controllare la situazione magari tre metri più in là la stessa consociazione fa vincere l'altra pianta quindi più intenzione c'è nel dare un design all'orto al giardino più bisogna metterci energia per mantenere quel design perché se non è lo stesso che la natura aveva in mente tende a cambiare e qui Fukuoka è comunque un grande perché lui trascende e dice io semino e poi decide la natura è anche vero che forse Fukuoka non aveva la salvia però quelle poi sono scelte individuali Allora qui stanno arrivando una serie di domande le abbiamo chieste giustamente e ce ne sono tante veramente interessanti Allora io sto iniziando ora a creare il primo orto e leggo in rete o su libri che ci sono diverse opinioni sulle concimazioni se farle o meno qua mette anche un punto di domanda lo stallatico Allora le concimazioni come le lavorazioni del terreno secondo la mia esperienza sono interventi che è bene fare quando necessari cioè se io non lavoro il terreno e il terreno è in uno stato inorganico il terreno me la fa pagare tra virgolette perché poi si compatta le radici vanno in asfissia le piante non crescono se io non do nutrimento a una pianta che è abituata ad essere nutrita da tutta la linea di selezione da cui proviene quella pianta aspetta un nutrimento che non le arriva il suolo magari non è nella condizione microbiologica di permetterle di trovare il nutrimento che già c'è lei stessa tra virgolette è disabituata a creare questa sinergia per fertilizzarsi naturalmente allora lì in quel momento se quell'intervento è necessario per far sì che la pianta sopravviva e arrivi a raccolto non farlo vorrebbe dire abbandonare la situazione vorrebbe dire trascurarla allora lì secondo me è importante farlo ma mentre lo si fa trovo che sia altrettanto importante cercare il modo più velocemente il modo più veloce possibile per far diventare quegli interventi una fase di transito cioè concimare in modo da arrivare il primo possibile a non doverlo più fare lavorare il terreno per arrivare a non doverlo più lavorare come questo con le tecniche di rigenerazione allora se io quest'anno riesco a rigenerare il suolo in modo che l'anno prossimo lo trovi in uno stato migliore che si compatta di meno che è più organico che è più vivo dovrò lavorarlo un po' meno dovrò concimarlo un po' meno e più passa il tempo più si calano i dosaggi allora capire che la concimazione è un tampone per permettere la crescita degli ortaggi in un ambiente ormai sconvolto dall'uomo è importante per mettere in prospettiva quella concimazione allora lo stesso concime può essere vissuto in due modi diversi o una cosa da fare sistematicamente per sempre perché non si pone l'attenzione sul rigenerare il suolo oppure un inoculo iniziale uno starter che ti permette di arrivare a raccolto ma più passa il tempo più tu poni l'attenzione sulla rigenerazione più tu attraverso la selezione dei semi ottieni piante che sono sempre più rustiche e sempre più capaci di farsi bastare meno concime prima ti sbaratti del concime ma senza passare dalla rigenerazione del suolo e dalla selezione del seme è difficile sulla concimazione ce ne sono altre a cui tu hai già parzialmente risposto qualcuno ti chiede se usi sovesci compost o colture a tratto fissatrici per minimizzare le lavorazioni del terreno le uso tutte e tre le uso tutte e tre non tanto per minimizzare le lavorazioni ma per per accelerare la rigenerazione la minimizzazione della lavorazione poi è l'effetto collaterale però il primo obiettivo è proprio la rigenerazione attiva il sovescio secondo me è una pratica molto importante soprattutto per coprire le uole in dei momenti dell'anno in cui magari non ci faresti granché però da sole le concimazioni verdi il sovescio secondo me non basta ci vuole anche una buona facciamatura organica ci vuole una bella quantità di legno che possa essere poi digerita anche dalla crescita del sovescio che lo aiuta a trasformarsi in humus allora diventa molto più efficace la cosa allora ne avevo vista una molto bella di domanda devo buttarti lì ecco qua macerati e fermentazioni ma è bella la domanda perché dice parlate dell'idea di partecipare come atto sinergico tra l'uomo e natura nell'orto con macerati o fermentazioni quindi l'idea anche di di entrare con qualcosa di naturale quindi il macerato la fermentazione che attiva i microrganismi non vedo perché no secondo me va bene tutto ma guarda paradossalmente potrebbe andare bene pure la chimica ma quando quando tu la contestualizzi in un'azione che è circoscritta a un momento che la volta dopo deve portarti a un risultato migliore che ti permetta di usarla di meno allora ovviamente la chimica l'ho detto in modo assurdo non la uso però e usandola anche poi si andrebbe contro una logica di evoluzione però il punto anche lì col macerato con la fermentazione cioè il macerato e la fermentazione a cosa serve fondamentalmente serve ad aiutare le piante ma le piante perché le vogliamo aiutare perché il bosco di solito non lo andiamo ad aiutare perché il bosco ce la fa da solo ma perché ce la fa da solo perché il suolo è vivo e perché è vivo perché c'è materia organica quella è una chiave fondamentale se io vado a dare il macerato o un fermentato lo do va bene ma mentre glielo do gli do anche della materia organica al suolo ma non materia organica solo come il letame perché il letame apporta azoto solubile sono nutrimenti che poi se ne vanno parlo di una materia organica che lascia un residuo concreto che dia un corpo all'humus allora solo un intervento tampone senza poi questo apporto concreto secondo me non è abbastanza invece quando a un qualunque intervento che sia una lavorazione che sia una concimazione o un inoculo di microrganismi o di micorrizio o quant'altro quando è associato quando è in sinergia a una pacciamatura seria concreta fatta bene cambia tutto allora vediamo un po' ancora qualche domanda perché ne stanno arrivando se tu vedi Alessandro e vuoi scegliere pesca al volo rispondo a qualcuno che ha chiesto il titolo l'ordine nascosto a scanso gli equivoci è un libro che mi piace non sono pagato per pubblicizzarlo c'è sempre il link che gli è stato messo poco dopo allora no però scusa scusa anche anche doverosamente mescolate contadini mescolate di Salvatore Ceccarelli perché sono due letture complementari che compensano Fukuoka allora volevo raccogliere acqua piovana ma mi viene il dubbio di dover ricorrere a un impianto depuratore visto l'inquinamento atmosferico oppure la lascio solo decantare allora senza senza la pretesa di voler dire qualcosa che che voi dobbiate prendere come riferimento valido io io ragiono così se mi preoccupo dell'acqua piovana per l'orto allora mi dovrei anche preoccupare dell'aria che respiro nel senso se se quell'acqua ci piove sull'orto spontaneamente cosa faccio non mi do la possibilità di far di raccoglierla e poi di utilizzarla secondo me se se accettiamo che piova sull'orto vuol dire che comunque possiamo anche poi anche poi raccoglierla e guarda mi è capitato di dare la stessa identica risposta mi hanno intervistato alla radio settimana scorsa dieci giorni fa proprio non dico che le parole siano state le stesse infatti mi è venuto da rispondere poi ti ho lasciato parola perché avevo ancora una domanda sull'inquinamento proprio perché è vero è normale è comprensibile preoccuparsi perché l'inquinamento è un problema serio io vivo in Lombardia quindi ma anche anche la preoccupazione è un inquinamento cioè prendere consapevolezza di un problema e trasformarlo in una soluzione è una cosa prendere consapevolezza di un problema e preoccuparsi e vivere male è un inquinamento forse maggiore di tutto il resto forse per cui per cui se uno non vuole utilizzare l'acqua piovana per irrigare l'orto allora deve anche coprire l'orto per non fargliela piovere sopra ma allora con cosa lo copri? il telo cosa rilascia? e poi qui si apre un mondo che porta solo ad altre preoccupazioni perché ho mai preso quella vena lì per cui secondo me star super tranquilli nella maggior parte dei casi come attitudine ad affrontare i problemi trasformarli in soluzioni aiuta anche in questo caso è molto impegnativo mi permetto di aggiungere un'altra lettura che mi si è riaccesa nella memoria che non è di Fukuoka ma è su Fukuoka fatta da un suo allievo l'Henry Korn si intitola l'agricoltura del non fare semplicemente è un tassello fondamentale per comprendere e per mettere in prospettiva il lavoro di Fukuoka allora vediamo un po' qua cosa ci chiedono ah c'è una domanda bellissima che poi mi sono perso via sulle lumache che diceva ma con le lumache è possibile creare sinergia o è guerra e qui guarda le lumache come i topi come i merli che ti mangiano i germogli del mais sono sono tutti quegli elementi che ci ricordano che comunque noi non siamo i padroni di niente e noi siamo umili ospiti di questo mondo di questo di quel fattoreto di terra che abbiamo in gestione e che come a noi piace la verdura buona c'è anche qualcun altro che la apprezza è interessante cioè secondo me è un grande esercizio esistenziale avere a che fare con le lumache avere a che fare con i topi avere a che fare con i merli eccetera perché ti permette di trasformare l'impulso del dire è guerra con l'impulso dell'accogliere quella presente disturbante come parte del tutto cioè è anche grazie al fatto che esistono le lumache paradossalmente che la lattuga cresce poi se le lumache sono troppe diventa un problema ma quella lumache fa parte del tutto come prima dicevamo l'aspettativa pesa sul raccolto anche la visione del nemico pesa sul nostro entrare in sinergia con la natura se io vedo un'erba spontanea come un nemico e la voglio strappare perché penso che sia cattiva cosa ho capito della natura? se vedo la lumaca come un nemico cosa ho capito della natura? allora capire che quelle cose lì per quanto possano inquinare il nostro presepe vivente che è un orto pieno di raccolti abbondanti capire che sono parte della natura secondo me è il primo passo per entrare in sinergia senza quello è una sinergia che si vive a parole prima di tutto detto questo è anche importante portare in tavola la lattuga allora come dicevo prima le lumache secondo me sono anche un indicatore cioè gli orti con tante lumache spesso sono orti che non sono proprio in bolla non sono proprio in fase avanzata di rigenerazione spesso finché hai tante lumache finché hai tante erbe spontanee vuol dire che lo stato del suolo tendenzialmente è abbastanza arretrato nell'evoluzione più riesci a rigenerarlo nel mio caso sto vedendo che più si rigenera minori sono le lumache minori sono le erbe spontanee e quest'anno fino ad adesso minori sono anche i topi sto ancora sperimentando e sto ancora studiando la situazione però vedo una connessione con la rigenerazione ad esempio il primo anno moltissime lumache pace matura di paglia eccetera dal secondo al terzo anno di orto qui stiamo parlando del 2015 circa hanno incominciato ad apparire le lucciole d'estate le larve di lucciola mangiano le lumache ed è bello d'estate quando arrivano vedere che nel piccolo orto che è l'orto in telechia sembra che ci siano le luci di natale accese e purtroppo tutto attorno nei campi coltivati buio il fatto che siano arrivate le lucciole in quel piccolo spazio che è l'orto comunque per me è un segno di un equilibrio che si sta andando a ricreare e il fatto che di conseguenza le lumache diminuiscano è un altro segno insomma torniamo al fatto che tutto è connesso allora da un punto di vista bellissimo secondo me io penso anche che alcuni di questi tra virgolette nemici tra virgolette perché ci viene da dire in particolare l'ho osservato quella va spontanea condivido tantissimo quello che dice Alessandro che sono spesso un sintomo di malessere del sistema di arrepratezza di malessere perché a volte magari sono gli organismi che arrivano perché sono i più robusti i più coriacei quelli che possono sopravvivere in quelle condizioni lì se io ho un suolo molto povero arriva la gramigna con le sue radici che va a pigliarsi perché è l'ultima risorsa che ha la natura per far fronte a un impoverimento generale quindi è una reazione no? è chiaro che se poi arriviamo noi e ci mettiamo la nostra pianticella che vorremmo vedere sviluppare in una situazione di questo genere ecco che la gramigna la lumaca quell'essere lì che è abituato a sgomitare quando il gioco è duro ci crea quello che noi viviamo come problema però è bello quello che ci ha spiegato Alessandro cioè cercare di capire che in realtà sono una parte del tutto e in realtà sono anche se vogliamo vorrebbero essere un agente positivo magari in una situazione di difficoltà del sistema esatto cioè l'erba spontanea a livello ecosistemico chi è? è quell'elemento è quella quella gente specializzato che nella catena evolutiva nella successione ecologica arriva subito dopo il muschio subito dopo il licheno che sono le prime forme di vita che colonizzano la roccia allora se subito dopo il muschio e il licheno hai le erbe spontanee hai la gramigna e compagnia bella vuol dire che se quelle stanno dominando l'orto l'orto è in quello stato primordiale lì la lattuga arriva molto dopo nell'evoluzione vegetale allora come poter combinare le due cose spesso forzandola con la chimica con tanto con cime con lavorazioni esasperanti arrivare ancora una volta al punto di incontro riportando il suolo verso quella lattuga è una strada leggermente più impegnativa perché ti richiede l'attenzione e l'intenzione ma secondo me è molto più efficace perché efficace perché tu incominci a osservare la natura e capire come funziona e quindi non ti limiti a fare le cose solo perché ti hanno insegnato che si fanno così perché lavorare il terreno concimarlo senza sapere perché è come seguire una tabella consociativa senza sapere perché allora se mettiamo in discussione la tabella consociativa e ancora prima il nostro modo di interpretarla è bene mettere in discussione il nostro modo di interpretare l'agricoltura e le lavorazioni il nostro modo di vedere la natura leggo sotterrare l'umido nell'orto porta a un miglioramento del terreno è una domanda fondamentale sotterrare l'umido l'umido inteso come immagino l'umido da cucina gli scarti vegetali ma anche il letame mettiamoci dentro anche il concime in questa domanda sotterrare materia organica che sia un nutrimento porta a un problema o porta un miglioramento se capiamo che il suolo in natura si organizza per strati e gli strati superiori sono quelli organici e quelli inferiori sono quelli inorganici ogni volta che si sotterra qualcosa e si crea un ribaltamento si va ad alterare un equilibrio che è fondamentale per il funzionamento corretto della biologia di un suolo allora se si vuole sotterrare se si vuole interrare materia organica per me è molto importante evitare che la parte inorganica inferiore torni a galla evitare il ribaltamento come si comporta la natura la natura fa cadere la materia organica sul terreno e lentamente la va a inglobare dentro attraverso ad esempio l'azione dei lombrichi che la prendono e proprio fisicamente la portano giù attraverso un moto chiamato bioturbazione permettere l'infiltrazione della materia organica gradualmente nei primi centimetri del suolo evitando il ribaltamento secondo me è molto più significativo molto meno invasivo rispetto che stenderla arare tutto e ripartire perché ogni volta che tu ari annulli quel sedimento che si era creato l'anno prima e questa è la vera indicazione che voleva portare Fukuoka per la mia interpretazione smettere di arare vuol dire smettere di annientare quell'interfaccia in cui il suolo incomincia a rigenerarsi permettendogli quindi di aumentare anno dopo anno e qui la metà della gente dice ok non lavoro più il terreno non lo tocco per niente l'altra metà dice vabbè è impossibile questa non è agricoltura continua col trattore e poi c'è la via di mezzo che è è un matto Fukuoka o ha detto qualcosa di sensato forse ha detto qualcosa di sensato capiamo come poterlo far funzionare questo è un po' ciò che mi sto limitando a fare nella pratica per cui il primo anno ti avrei detto non sotterrare assolutamente niente ma non toccare proprio il suolo a oggi invece ti dico questo basta che fai attenzione a come lo tocchi il suolo aver rispetto a quell'ordine tra l'altro abbiamo sempre citato i microrganismi in sottofondo che sono un agente fondamentale di queste sinergie di questo ecosistema un agente che non vediamo quindi che viene facile dimenticarsi anche magari quando iniziamo a fare i nostri ragionamenti quindi prendiamo spunto su questo nell'ascoltare del ribaltamento degli equilibri biologici del terreno troppo facile no? dimenticarsi anche penso l'agronomia su questo non sempre aiuta nel senso che tante volte non so ci prende analisi del terreno ci si ricorda della parte viva del terreno attenzione su questo perché meritano il nostro meritano la nostra attenzione la nostra considerazione allora qua vuoi scegliere tu Alessandro? aggiungo come noi forse meriteremo la loro e chissà allora dunque avevo visto qualcosa arrivo eh agricoltura su sodo agricoltura su sodo è un'altra di quelle cose è un altro di quei punti critici cioè o agricoltura in arido cioè accettare una condizione ostile per fare agricoltura cercando in tutti i modi che le piante ce la facciano cosa vuol dire alla base vuol dire rinunciare alla responsabilità di migliorare l'ecosistema perché se vuol dire questo allora non mi interessa più di tanto cioè guardiamola un attimo da lontano la natura si è espressa creando armonia e equilibrio per miliardi di anni poi arriva l'uomo che in 200 anni distrugge quasi tutto oggi l'uomo che si basa sull'agricoltura per sopravvivere e fa fatica ad attuarla perché ha distrutto quasi tutto ha due possibilità abbiamo due possibilità o diciamo abbiamo fatto un danno e lo ripariamo o cerchiamo a tutti i costi di farcela accettando il danno io sono per ripararlo allora se l'agricoltura su sodo può essere un modo iniziale per ottenere raccolti da terreni mal ridotti ma con l'idea di migliorare il terreno con l'idea di migliorare l'ecosistema e di curare il danno mi sta molto bene ma se è un modo per accettare il danno come una condanna che come una croce che ci portiamo come umanità sulle spalle no non mi piace molto soprattutto perché le patate su sodo ad esempio cioè le patate su sodo sono complesse da fare soprattutto se prendiamo delle patate che non sono abituate ad essere coltivate su sodo le piante come noi hanno una memoria hanno un'abitudine hanno una cultura cioè la patata presa dal consorzio è coltivata con tutte le accortezze possibili immaginabili per far venire grosse e tu la metti su sodo ma quella si domanda cosa ha fatto di male le patate magari di un contadino che le sta abituando da degli anni a coltivare su sodo magari le regiscono in un altro modo quindi ancora una volta agricoltore su sodo con quale patata con quale pianta in che contesto in un contesto evolutivo o in un contesto erosivo e qui su questo su quale pianta un precedente commento mi diceva un'altra diretta da fare su semi conservazione dei semi evoluzione ecco quindi Alessandro sappi che prima o poi ti disturbo nuovamente e per me è importantissimo quando leggo degli spunti farne insomma tenerne conto e cercare magari ci metto un po' perché facciamo una diretta ogni due settimane io non sono molto da video anzi adesso sono sfocato quindi anche anche letteralmente non lo sono però tieni a mente che hai un appuntamento proprio perché questa sera mi sembra che siano uscite davvero davvero tante 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 riflessioni tanti arricchimenti da Alessandro e dall'interazione dalla sinergia di tutte queste domande questi spunti che poi Alessandro ha potuto cogliere volentieri io andrei a dare la buonanotte ma non a concludere nel senso che vi invito a andare sui canali di Alessandro perché immagino che non siate sazi di tutto questo fiume di riflessioni informazioni pensieri e quindi io poi metterò anche nel post quindi lo ritroverete sul gruppo i vari link sia al canale di Alessandro dove trovate dall'orto all'agroforesta quindi questo percorso e più vari altri video sia vi metto il link anche alla raccolta fondi perché il progetto di Alessandro è molto bello che viene tenuto vivo dal libero contributo di chi apprezza e quindi sostiene proprio perché sia possibile tutto questo quindi vi invito ad andare a darci un occhio e magari anche dare un sostegno che può e vuole alla divulgazione che Alessandro sta mettendo in atto e che insomma è un contributo secondo me molto significativo grazie 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 di cuore Matteo quindi non so Alessandro c'è il sostegno è condividere mettere un commento un saluto sui canali ma anche concretamente adesso poi vi metto tutti i riferimenti sul post che tanto ecco ci tengo a ricordarlo perché siamo abituati al social come qualcosa che sfugge via facebook si posta e poi scompare in realtà qui sul gruppo le dirette rimangono e vengono archiviate sotto una roba che si chiama guide mi pare adesso perché poi facebook cambia nomi una volta si chiamava unità adesso si chiama guide quindi se sul gruppo andate su guide trovate tutte le dirette questa le precedenti il futuro le future e potete rivederle ma anche riprendere magari il link al canale di Alessandro se ve lo siete perso queste cose qua Alessandro io ti ringrazio tantissimo e ti lascio un ultimo saluto messaggio quello che vuoi insomma per dare la buona no io ti ringrazio ancora una volta perché mi sono sentito a casa ben accolto da te mi è piaciuto molto questo incontro mi viene spontaneo dire ai partecipanti che magari ci stanno ascoltando che se vogliono insomma se volete sappiate che potete prendere parte all'iniziativa dell'evento online che facciamo col progetto campomadre che è un'iniziativa gratuita come questa come tutte quelle del progetto campomadre per cui se vi interessa rimanere sintonizzati e fare rete e incontrare altre persone che hanno gli stessi interessi e scoprire di volta in volta che non siamo più così pochi sappiate che potete saltare a bordo e nel caso potete scrivermi nella mail che è la mail del progetto campomadre campomadre chiocciole libero punto it tutto qua grazie perché tra l'altro adesso che vi ricordo qualcuno l'aveva chiesto come partecipare all'inizio proprio ecco qui come si viene su zoom quindi scrivete ad Alessandro allora vi saluto abbiamo fatto abbastanza tardi un'ora e mezza sull'ora sull'ora canonica che dovrebbero essere queste dirette la sforiamo sempre ma questa volta l'abbiamo sforata con grandissimo piacere perché è stato veramente arricchente direi questa ora e mezza passata insieme un saluto a tutti comunicazione per chi volesse seguire la prossima tra due settimane noi facciamo tendenzialmente un mercoledì sì un mercoledì no quindi il 31 marzo parleremo di compostaggio e in generale di di trasformazione diciamo no quindi di sostanza organica insieme a Cristiano Gallinella che scoprirete una persona piuttosto interessante su queste cose potrete chiedere di bio char di un sacco di cose interessanti che Cristiano nella sua azienda agricola sperimenta da anni quindi vi do appuntamento io tra due settimane Alessandro con i suoi canali e il suo flusso di condivisioni anche subito vi ho messo un paio di link per iniziare a vedere e poi tenete conto la possibilità di partecipare al suo evento su zoom scrivetoli buonanotte buonanotte a tutti grazie ancora ecco qua dovremmo non essere più in diretta ti ringrazio tanto Alessandro grazie a te non 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 è stato un ringraziamento diciamo di cortesia di facciata ma sincero ecco si percepisce è stato è stato proprio piacevole e arricchente direi che la parola e penso che sia stato utile anche per tutte le persone che hanno ascoltato nei diversi livelli di consapevolezza esperienza che che saranno passati di lì e che passeranno di lì visto che adesso resta resta pubblicato quindi bello spero spero che abbia fatto piacere anche a te molto molto piacere molto piacere sono felice anche del fatto che comunque sei rimasto felice ed è molto importante per me questa cosa se ci sarà la volontà di fare l'incontro sui semi sappi che sono più che disponibile si potrebbero poi pensare di magari di far partire anche dei progetti attivi sui semi però non mettiamo troppa carne al fuoco e non facciamoci aspettative stiamo a vedere questa è una cosa che sarebbe davvero bello bello fare me lo chiedo spesso a volte me lo chiedono anche io di solito do qualche link perché ho sempre avuto un po' paura di aggiungere carne al fuoco e non riuscire poi dopo a stare dietro a tutto sì però sicuramente sarebbe bello dar la scintilla probabilmente è qualcosa che vale la pena fare un po' più in là quando il grosso dei raccolti iniziano potrebbe essere il momento bello per fare un discorso di questo assolutamente ascolta io ti farei anche questa domanda perché mi viene spontaneo se hai un altro minuto di tempo sì mi è irresistibile come dire trasformare questo momento in piccola intervista come ti come ti cioè cosa ti aspetti da quest'anno da un punto di vista proprio sociale urca questo è un domandone non lo so sinceramente non lo so e faccio fatica proprio a fare previsione in un momento così strano e mai inedito se vogliamo io vedo che c'è una grande c'è una presa di coscienza di alcune cose e questo io auspico che lasci qualcosa cioè chi per ingannare la noia per uscire di casa si è fatto il pezzettino d'orto ha sperimentato qualcosa secondo me qualcuno si porta a casa e spero che questi qualcuno siano un po' dei semi perché magari poi insomma sono persone che non vengono da tradizioni contadine che non hanno che magari sono in contesti anche più urbani e quindi sono anche quelle che possono più contaminare credo la società perché c'è l'amico il collega ma sai ma guarda il mio pomodoro ma assaggia il mio peperoncino sono super piccanti insomma queste cose qua che però poi sono quelle che fanno il cambiamento perché insomma e parallelamente credo che il web cioè un po' diciamo quello che noi maneggiamo sta scottando cioè l'agricoltura e il web sono le due cose che in questa situazione hanno necessariamente preso preso forza ottimista cioè spero che questo uso massiccio del web sia arrivata anche un po' di consapevolezza di come funziona ecco perché quello può essere insomma una grande ricchezza un grande modo di connettersi diciamo ma anche insomma ma anche un problema diciamo perché spero che invece questa mancanza di relazione generi anche il desiderio di relazione anche più fisica in me l'ha generato tantissimo cioè io non ho mai pensato di fare un evento dal vivo di orto da coltivare vuoi perché prima era un blogghettino da niente una roba però in questi due anni continuo a dire ma quando cavolo si potrà con serenità organizzare qualcosa dove ci invitiamo queste persone interessanti come puoi essere tu come altre in un luogo fisico con la terra con insomma si vede un po' e spero che questo riusciamo a ricordarcelo non che ah che bello ero così comodo a fare le dirette su facebook no non lo so non so cosa succederà però io vedo questi due punti perché sono le cose che maneggio tutti i giorni dove andremo poi dipende un po' anche da noi e siamo imprevedibili non so come la vedi tu però perché questa domanda la voglio anche a un tuo punto di vista la coscienza si sta risvegliando nel mio piccolo le mail di persone che mi dicono grazie alla pandemia ho iniziato a fare l'orto e adesso voglio rifarmi i semi mi arrivano ogni volta è una freccia che mi trafigge il cuore e quindi ho un sacco di fiducia in realtà nonostante il contesto mi vorrebbe opprimere in qualche modo per cui scelgo di coltivare fiducia e questa è una cosa importante secondo me è una cosa importante proprio a livello esistenziale è una roba grossa il fatto di mettere di fronte a una cosa così concreta e immediata come il guardarsi in faccia a livello globale la popolazione e quindi sono molti semi che stanno cominciando a nascere da questa pioggia torrenziale che si affranta su tutti per cui ecco mi sento fiducioso in soldoni speriamo in bene dai sì sì ma sì ma se non seminiamo finito infatti lavoriamo per il bene oltre che perché poi bisogna trovare il positivo anche nelle lumache quindi ci insegnano giustamente io non mi sono espresso sui topi perché su quelli faccio davvero fatica faccio davvero fatica ma anch'io eh anch'io sono stati una croce per troppo troppo sono sono stati e sono io quest'anno però ti confesso che da qua cioè quest'anno proprio ho detto faccio tutto l'orto in cassoni con la rete metallica sotto i topi si attaccano poi ho ho desistito da questo sia perché non ce la facevo proprio ho avuto il colpo della strega e non ce la facevo ho visto il tuo video di gennaio e poi mi son detto vabbè ma ascolta io li accetto questi topi colgo l'occasione per sperimentare l'accettazione oh fino adesso fino adesso gli anni scorsi a quest'anno mi avevano già fatto fuori metà dell'aglio quest'anno ancora no e quindi già è un buon segno ti farò sapere come va a finire dai io guarda coltivo zafferano e mi mangiano i vulvi e questa cosa dell'aglio mi fa ridere perché mi ricordo una delle prime esperienze io ho scrissi non so in che gruppo e qualcuno mi disse pianta l'aglio che è un naturale impellente per il top una barriera di aglio che finì divorata prima di riuscire a germinare è un'esca sì alla fine insomma tampono piantando invece il topinambur che è per assonanza poco più in là e banchettino con questi tube inarrestabili e quanto ne fai di zafferano di terreno di zafferano sono adesso abbiamo uno zafferanetto troppo grande per le nostre ridotte capacità ed è sui 3000 metri quanta si è una e lì sono 4000 metri quindi io coltivo soprattutto zafferano cioè non ci guadagno nulla è una in sostanza adesso poi forse ti annoio e tu te ne vuoi andare a dormire la faccio abbastanza stringata io mi sono avvicinato all'agricoltura per anch'io come te per una grossa parte della mia vita abbiamo più o meno la stessa età insomma fino ai 25 anni non ho praticamente non vengo da una famiglia che ha fatto l'orto e tutte queste belle cose mi sono trovato facendo un po' di volontariato con dei ragazzi con degli amici è difficile definire però non a loro agio nella società quindi non efficienti nel trovare un lavoro eccetera eccetera e con questi insieme ad altri amici ci siamo detti cosa facciamo che è bello tenerci vicino far qualcosa insieme eccetera non erano dei grandi conversatori ma erano dei grandi lavoratori e quindi abbiamo pensato cos'è che li valorizza e quindi così a caso ci siamo messi a fare un orto e poi da lì è un po' è venuta fuori e poi lo zafferano è perché l'orto è troppo vario abbiamo iniziato a cercare una cultura che non fosse meccanizzabile che raccogli un filino eccetera perché era la cosa dove loro potevano avere più e poi alla fine è venuto fuori questo zafferaneto questa micro società agricola grande bella una robina così niente di che è una cosa che gestiamo così nel settimana siamo anche un gruppettino quindi non è che è tutto sulle mie spalle ci sono i soci guarda se un giorno riusci tu da che stai? in Brianza se un giorno riuscirò a raggiungere la Brianza ti proporrò forse un video su questa storia perché mi ha emozionato in questo racconto che hai fatto insomma ci trovo qualcosa di molto bello che merita di essere raccontato in un video se vorrai se vorrete te la lancio lì come possiamo sì è da pensare bene insieme perché su questo io sono sempre un po' restio per indole non mi piace tantissimo raccontarmi però vedo che comunque da un certo punto di vista è quasi una cosa necessaria cioè perché fa parte del confronto cioè come non mi piace chi ha tutti i costi vuole mettersi sotto i riflettori penso che anche l'eccesso opposto sia sbagliato quindi è uno sforzo che cerco di fare insomma poi ognuno anche lì deve trovare il suo equilibrio tra fare e non fare esatto come in tutto farsi vedere e non farsi vedere esatto esatto ma a tal proposito mi ricordo che in passato mi parlavi della volontà di fare dei video per il progetto orto da coltivare ci sei poi riuscito a trovare sì allora guarda tra l'altro è nuovissimo perché cosa sarà dieci giorni che c'è il canale youtube di orto da coltivare sì 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 ho fatto il primo video appunto l'ho fatto io così di presentazione e poi ho fatto insieme a una ragazza giovane aiutando un po' io ma poi lasciando fare dei tutorial molto 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 semplici cioè proprio come si semina il pomodoro cioè delle cose proprio tre minuti neanche adatte a youtube se vogliamo perché non si vede mai la persona ma perché volevo che si vedesse l'operazione grande e questo perché io ho sempre fatto contenuti scritti e tantissimi mi sono accorto poi che in realtà dallo scritto non riuscivano a figurarsi non so cavolate però bagnare il la vaschetta del semenzaio non lo sai arrivi con la bottiglia perché un buco insieme chissà dove è andato a finire oppure queste piccole oppure bagni l'esterno e questo non mi era mai capitato ma immagino che invece non lo sappia ma l'abbiano fatto in molti esatto quindi un po' quello e poi dopo ho chiesto un po' alle persone che scrivono già su orto da coltivare o così chi piaceva chi se la sentiva eccetera c'è qualcuno che ogni tanto mi fa dei video che sì sì bene 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 adesso sì in realtà io poi non maneggiando bene per dare continuità ho tipo 40 video già pronti se vanno bene bene se no vanno perché per me è faticoso fare i video ma vabbè va bene così beh il canale integra cioè integra cavolo sì sì esatto per me l'importante è poter mostrare alcune cose poi ascolta l'importante l'importante è mettere in piedi qualcosa che abbia un senso insomma poi i risultati sono l'effetto collaterale esatto una cosa ma me lo devo coltivare scusa me lo devo coltivare te li mando un po' di bulbi se vuoi sì 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 adesso quest'anno forse non li tiriamo su stiamo ancora valutando ma qualcosa te lo mando volentieri in che periodo così me lo manderai se agosto sì 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 diciamo che l'impianto conviene farlo a fine agosto ok perché poi lui parte a settembre ed è bene che sia lì chiaramente se lo pianti prima lasci libero campo alla crescita delle spontanee che si avvantaggiano e quindi la cosa migliore è metterlo giù secondo me quello che fanno un po' tutti tanto è indormienza lui adesso tra un po' si dissecca si sta moltiplicando adesso e per maggio è indormienza quindi volendo si possono cavare anche a maggio i vulvi guarda io li accolgo molto volentieri mi piace ripartire con una zaffernaia che viene da te dai va bene allora ti segno ti segno tanto il bello è che insomma come le sementi i vulvi si moltiplicano tutti gli anni quindi l'eccedenza è fisiologica a meno che uno non vuole morire raccogliendo zafferano prima o poi si deve fermare ma è commestibile il il tubo il bulbo si si dicono ho letto che è commestibile ogni sua parte non è non è gradevole per niente non è gradevole io ho fatto io non ho fatto tantissimi esperimenti non l'ho cucinato non l'ho fritto è fritto di solito è buono tutto però però no cioè te lo consiglio mentre me lo sconsiglio non te lo mentre il fiore è insapore il petalo è insapore però insomma se se ce l'hai lì ne butti una manciata nell'insalata da un po' di colore non è buono è proprio un sapore un po' come certe insalate con un sapore leggermente proprio erbaceo dell'erba quella sfalciata per intenderci è per fare il sommelier sentore di erba sfalciata da uno o due giorni però invece sì a me piace pensare che è una pianta che concentra tantissime cose in quel filino quindi il petalo non sa di niente giustamente insomma che cosa vuoi già cosa ti ha dato che cosa vuoi che anche il petalo abbia un sapore in realtà in realtà degli amici con cui mi confronto che coltivano a buon livello loro hanno fatto delle ricerche in collaborazione con l'università e i petali hanno delle proprietà importanti proprietà di benessere diciamo per cui hanno iniziato a proporre questa tisana di infuso di fiori quindi petali e stimmis essiccati insieme grande che a quanto pare ha tutto un suo perché grande sì noi invece abbiamo sempre usato il petalo come barriera antilumaca perché quando c'è allo zafferano delle lumache non gliene frega niente perché quella foglia filiforme la lumaca non piace però quando arriva il fiore invece sì e quindi sì 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 le lumache vanno mangiano i petali però distruggono tutto quindi e quindi noi cosa facevamo buttavamo proprio in campo questi petali miracolosi e le lumache andavano sui petali petali che raccoglievate sì sì perché tu raccogli il fiore intero è impossibile andare in fase di raccolta tirar via gli sporchi anche quindi tu raccogli il fiore intero e poi la sera tutti insieme in una bella tavolata si fa questo lavoro contadino dei più monotoni possibili che è tirar fuori i fili e metterli sul vassoio dove poi andranno essiccati quindi tu poi hai lo scarto del fiore lo scarto tra virgolette che appunto noi restituiamo alla terra ma tramite le lumache e invece sì volendo si può valorizzare anche il senso agricolo e commerciale anche perché poi queste tisane vengono vendute al prezzo dello zafferano dai sì sì beh benvenga allora sì sì no poi è una pianta cioè io so che apprezzerai nel senso che è molto affascinante perché è una pianta che c'è una forza paradossale però è sterile cioè è sterile senza l'uomo non esisterebbe più cioè si moltiplica solo tramite vulvo quel fiore quel fiore lì non serve più è capricciosissimo cioè nessuno è ancora riuscito a capire come mai un giorno lo zafferano decide di fiorire a botta cioè per darti un'idea il raccolto di un anno può fiorire per il 30% in un giorno solo e e nessuno nessuno che io ho cercato e questi ragazzi che stanno facendo il corso con me hanno partecipato a studi sono stati in Iran a vedere le coltivazioni eccetera nessuno sa quali sono i fattori che dicono allo zafferano adesso fiorisci cioè non non si sa ci sono un milione di teorie ma insomma peggio che le consociazioni il potere della scienza il potere della scienza non può se sarà sarà la scoperta del 2521 non lo so però è così cioè tu veramente vai in campo un giorno per noi ci sono 50 fiori e il giorno dopo ce ne sono 10.000 può succedere come può succedere a me piace pensare che ci ha aiutato perché l'abbiamo trattato bene quest'anno eravamo terrorizzati perché tu quando hai piccoli fioritura lo devi raccogliere in quel se vuoi tenere la qualità lo devi raccogliere mondare ed essiccare tutto in quel giorno lì dai quindi cosa vuol dire eh sì altrimenti ciao si deperisce tutto cioè proprio quindi cosa succede te quindi c'è mille metri di zafferano te li smazzi in un giorno e tremila metri di zafferano beh non da solo certo sì 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 te li smazzi in un giorno che quando noi abbiamo avuto 20.000 fiori 20.000 fiori sono bel po' di ore lavoro in un giorno solo quel giorno lì abbiamo fatto le 4 di notte e poi abbiamo puntato la sveglia perché l'essiccatore dopo due ore avrebbe però cosa succede? succede che fai come facevano i contadini di una volta quindi eh mobiliti parenti e amici e sai che quel giorno lì chi va in campo prende il telefono e chiama la rubrica intera dicendo ragazzi ci sono i fiori ci sono i fiori il campo è viola venite tutti chiamate lo zio la nonna perché poi il bello è che pulirlo lo può fare chiunque davvero lo può fare la nonna cioè mia nonna di 80 anni due anni fa ha sfiorato lo zafferano insieme ai i cugini che che venivano reclutati dall'università perché questa cosa appunto è anche il bello e quest'anno eravamo terrorizzati perché non si poteva fare quindi il picco di fioritura si avrebbe avevamo già pensato vabbè cioè quello che è di troppo non verrà processato non verrà raccolto che e in realtà ha fatto una fioritura costante lunghissima un raccolto pari a quello dell'anno scorso ma spalmato in due mesi bellissimo incredibile lo stesso numero di fiori praticamente dell'anno precedente ma invece che avere tre picchi e poi tanto tempo con poca roba una produzione costante che ci ha permesso di con i nostri mezzi stare dietro a tutto bellissimo magico bellissimo sì in risonanza totale sì 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 è bello e secondo me è bello poi anche per lo zafferano il fatto che qualcuno di voi in questo caso tu se ne renda conto eh beh tutti perché perché eravamo lì tutti a dire a dire adesso ci castiga a temere questa fioritura che in realtà dovresti da coltivatore può in realtà temere perché l'altro problema è che chiaramente questa situazione ha mandato a pallino la vendita non è non è un danno irreversibile è un problema bisogna fa parte del gioco siamo più fortunati di altri poi tu se vuoi dei semi non hai che da da farmelo sapere che te li mando volentieri di altro insomma di quello che dai facciamo uno scambio però sì io non voglio non voglio non voglio chiederti io ispirati a quel punto io ti manderò i bulbi poi dopo tu prenderai ispirazione di qualcosa che ti è piaciuto che secondo te va bene a te cosa piace a te cosa piace coltivare a livello orticolo a livello orticolo i pomodori sicuramente tantissimo ok e poi le leguminose ok anche se anche se ci si ricava cioè ci si ricava meno eccetera però mi piacciono mi stanno simpatiche allora a seconda di come andrà l'anno vedrò cosa riuscirò a mettere insieme grazie questo è un dono che accetto volentieri fa parte di quelle cose che non si possono rifiutare con la responsabilità che ne consegue nella custodia eh sì eh sì bene dai alla fine abbiamo fatto mezzanotte abbiamo fatto mezzanotte l'avevamo detto comunque guarda che sarebbe stato bello mantenerla diretta cioè del tipo l'evento è finito però chi vuole resta chi vuole resta cioè però rimaniamo a chiacchierare sai che sarebbe male la prossima volta questa è una bella idea questa è una bella idea perché io ho un po' avuto la percezione che la gente ci sta ci sarebbe stata se fossimo rimasti come noi ci saremmo stati e ci stava comunque gestirla così questa volta però mi viene spontaneo dirlo perché alla fine sono questi quei momenti di condivisione in cui poi ci si rilassa in cui poi le saltano fuori le cose anche più interessanti cioè a me mi hai aperto un sacco di porte in questa chiacchierata che ad esempio mi piacerebbe invitarti per il progetto Campo Madre una sera su zoom a parlarci dello zafferano se ti va ah beh volentieri perché no a portare magari delle foto per far vedere il campo insomma quello che ti pare sì 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 cioè volendo c'è da far vedere da raccontare ce n'è grande allora ti tornerò a scrivere presto su questa possibilità faccio un piccolo sondaggio col gruppo domenica e poi ti aggiorno dai dai stagionalmente è una cosa che appunto conta che se qualcuno volesse iniziare deve iniziare ad agosto quindi è una cosa che va pensata a maggio massomeno perché trovare i bulbi quindi contattare un produttore che ne ha disponibili imparare il terreno entrare nell'idea sì io di solito a chi mi chiede dico con la testa ci vai a maggio pensata a maggio quindi detta ad aprile su zoom sì oppure inizio maggio secondo me sì anche inizio maggio va bene poi tanto parlandoci chiaro anche se uno lo decide a ferragosto ce la fa ok è solo di dipendere dall'estensione dalle risorse della persona eccetera va bene va bene dai volentieri grazie della disponibilità beh ricambio almeno ricambio con quel poco che so non ho la tua cultura botanica sull'orto io sullo zafferano però insomma qualcosina qualcosina è quello a cui mi sono dedicato di più con cui ho convissuto negli ultimi sette anni quindi allora sarà la tua gloriosa esperienza va bene grazie ancora va bene grazie a te davvero buonanotte è stato un piacere alla prossima un piacere ricambiatissimo alla prossima allora ciao 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 ciao